Era il 21 agosto 2018 quando Marco Del Cimuto, 33enne abruzzese di Pesco Costanzo in provincia dell'Aquila, molì fulminato da una scarica elettrica. Il giovane stava sostituendo un palo della luce nella zona delle Vertighe in un campo nei pressi del santuario. Era un operaio di un'azienda del consorzio ItaWork che aveva in appalto i lavori per conto di Enel. Per la tragica morte del giovane, adesso il giudice monocratico del Tribunale di Arezzo, Filippo Ruggero, ha condannato per omicidio colposo un collega della vittima, quattro mesi di reclusione con i benefici di legge. Assolti invece i due amministratori della società. In attesa delle motivazioni della sentenza, gli avvocati del collega, presente quel giorno sul cantiere ritenuto il preposto, hanno già annunciato ricorso in appello contro la condanna e contestano anche la stessa attribuzione del ruolo al suo assistito. Nel processo infine non era costituita la parte civile in quanto i familiari sono stati risarciti dall'assicurazione dell'impresa.